Ieri pomeriggio nella sala Fulvio Sodano di Palazzo Dalì, gremita di pubblico, è stato presentato il libro d'arte Lino Tardia, il mare della memoria, un catalogo antologico delle opere del pittore trapanese scomparso lo scorso anno. All'iniziativa, patrocinata dal comune di Trapani, erano presenti i figli di Lino Tardia, Fabio e Walnar e la moglie, la signora Cettina. Hanno raccontato la figura di Lino Tardia, il giornalista Fabio Pace, il giornalista e scrittore Giacomo Pilati e il cugino Enzo Tardia, anche gli pittori. Tre interventi che si sono concentrati sull'uomo Lino Tardia, sul trapanese Lino Tardia. Tutti ne hanno sottolineato il profondo legame con la sua città natale, un legame che interpretando la luce e i colori di questa terra ha anche segnato la sua cifra pittorica. E' stato però il critico d'arte Aldo Gerbino, che di Lino Tardia ha seguito gli ultimi vent'anni della prestigiosa carriera artistica, a definire meglio il ruolo dell'artista nella temperia degli anni 70-80-90, che lo videro tra i massimi protagonisti dell'arte contemporanea italiana, insieme a una schiera di artisti che hanno segnato il Novecento delle arti figurative nel nostro paese. Lino Tardia è considerato, dopo Carla Cardi, il più importante pittore che Trapani abbia espresso nel panorama artistico nazionale e internazionale. Anche Aldo Gerbino ha posto l'accento al legame di Tardia con i luoghi d'origine. Il mare e la memoria, nella sua pittura sempre presenti, rendono efficace il titolo per l'opera antologica presentata ieri. La serata è stata chiusa con l'ospicio da parte di moltissimi presenti che il Comune di Trapani dedichi una mostra antologica all'artista trapanese.